Due avvocati del Foro di Catanzaro, Pierpaolo Greco di 47 anni e Pasquale Barbieri di 66 anni, il primo curatore fallimentare della Fondazione Betania, nota struttura assistenziale cittadina che gestisce diverse strutture sanitarie e sociosanitarie, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro per concussione. Pierpaolo Greco, curatore fallimentare della Fondazione Catanzarese in liquidazione giudiziale, avrebbe, secondo l'accusa, preteso la somma di 50 mila euro complessivamente per orientare alcune scelte della curatella fallimentare, avvalendosi dell'aiuto dell'altro avvocato come intermediario con la persona offesa Marco Zummo, amministratore della società Carol SRL di Palermo, colui che ha denunciato l'accaduto innescando l'avvio dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Catanzaro, Giulia Pantano. L'intermediario avrebbe ricevuto una prima tranche di 25 mila euro dalla vittima, consegnando 10 mila euro poi al curatore e trattenendo per sé la parte rimanente. Sono state effettuate perquisizioni negli studi legali ed è stato possibile individuare e sequestrare il denaro. La vicenda si inserisce in una importante trattativa fra la curatela fallimentare e la vittima della presunta concussione, l'avvocato di Palermo Marco Zummo. Quest'ultimo rappresenta la Carol Betania, un gruppo imprenditoriale che ha affittato rami d'azienda di Fondazione Betania e gli immobili, ed era interessato, dopo la dichiarazione della liquidazione giudiziale, a ridefinire i termini di intesa. Ora l'avvocato greco è stato portato in carcere, mentre l'altro barbieri ai domiciliari. I provvedimenti dovranno adesso essere valutati dal GIP del Tribunale Catanzarese.